Yvonne Pagliari, hai portato la tua storia all'eredità il 31 di ottobre in una puntata speciale dedicata comunque alla sensibilizzazione e alla ricerca. Ecco, ci puoi spiegare com'è andata? Allora, è stata un'esperienza molto bella e abbiamo potuto giocare per la ricerca. Sono stata contattata da AIRC, che è appunto l'associazione per la quale si raccoglievano fondi, e eravamo sette concorrenti. Come sapete, il gioco è un gioco di cultura generale, di velocità e grazie ai nostri ricercatori e anche grazie alle nostre testimonianze è stato raccolto molto di donazioni e il nostro amico Thomas ha anche vinto il Monte Premi, che poi è stato devoluto totalmente ad AIRC. La mia vita è cambiata totalmente dopo la diagnosi. Ho deciso di cambiarla, la mia vita, perché questa malattia non doveva essere per me un ostacolo, ma un trampolino di lancio. Ho guardato in faccia la malattia e ho guardato in faccia anche le donne che erano con me a lottare. E da queste donne io ho imparato molto. Ho imparato che siamo molto forti e che possiamo dare forza alle nostre compagne. Quindi ho lasciato la mia vita tradizionale di impiegata, di selezionatrice, di risorse umane e mi sto dedicando in tutto alle persone che hanno necessità di essere sostenute. Lei ha scritto anche un libro. È andato in ristampa a febbraio. Adesso come sta andando? Allora, il libro si intitola L'ombra di una stella ed è uscito proprio a febbraio e a marzo è stato anche poi, diciamo, divulgato proprio per la festa della donna. È un libro scritto per le donne che combattono contro il male, nel mio caso il cancro al seno, ed è un libro di poesie e di testi teatrali. Il libro sta andando molto bene perché siamo alla quarta ristampa, quindi siamo molto orgogliosi. Quando presento il mio libro, di solito non leggo soltanto le poesie, ma leggo alle donne la mia esperienza, cioè la mia forza, da dove è venuta la mia forza e cerco di spronarle, prima di tutto alla prevenzione e in secondo luogo alla tempestività, perché noi pazienti che abbiamo problemi con il cancro abbiamo soltanto due risorse, come ho detto anche in trasmissione al signor Insinna, che sono solo due risorse, che sono il tempo e la prevenzione. Queste due risorse ci possono fare la differenza. Quindi spingo ancora a tutte le donne e anche agli uomini, perché ultimamente si stanno verificando casi di tumore mammario anche negli uomini, ad ogni sentore di non allarmarsi e farsi intrappolare dalla paura, ma di essere coraggiosi e andare tranquillamente a farsi visitare, perché una mammografia non ha mai ucciso nessuna donna, ma una mancata mammografia ne ha uccise molte. Quindi vi prego, non abbiate paura.